I carabinieri di Favignana, all'esito di mirati servizi di polizia marittima finalizzati alla prevenzione in materia di sicurezza del codice della navigazione, hanno elevato, a carico di un uomo comandante di un'imbarcazione da di porto, una sanzione amministrativa di circa 3.700 euro per violazioni riscontrate durante un controllo. I militari dell'arma hanno sottoposto a controllo l'unità da di porto nello specchio acqueo antistante la nota località turistica Calarossa dell'isola di Favignana. Durante il controllo è stata riscontrata un'infrazione al codice della nautica da di porto in quanto il proprietario dell'imbarcazione avrebbe utilizzato la stessa con finalità di noleggio occasionale giornaliero senza effettuare la preventiva comunicazione agli uffici competenti Capitaneria di Porto e Agenzia delle Entrate. I controlli volti a contrastare il noleggio abusivo e le infrazioni al codice della navigazione continueranno incessanti per tutto il periodo estivo.